Saltata l'ondata della pandemia con inevitabili ritardi e riduzione della precocità di diagnosi si riparte per recuperare il tempo perso con azioni di prevenzione nella lotta contro i tumori del collo dell'utero, della mammella, del colon retto e della pelle. Domani martedì 5 ottobre prende il via Mi Voglio Bene la campagna di screening oncologici gratuiti dell'asla di Salerno. Medici in piazza e controlli gratuiti per la prevenzione dei tumori, pap test, mammografia, melanoma, colon retto. Il tour che attraverserà l'intera provincia è articolato in 16 tappe, la prima delle quali sarà a Salerno domani mattina in piazza della Concordia dove dalle 9 alle 18 sosterà il track dell'asla con i suoi operatori dove sarà possibile prenotarsi e ricevere informazioni. Per fissare un appuntamento di screening oncologico gratuito della mammella riservato alle donne dai 50 ai 69 anni e della cervice uterina per le donne dai 25 ai 64 anni è possibile anche registrarsi online al link screening.aslsalerno.it per essere contattati dagli operatori. Gli esami sono proposti alle persone che si trovano nelle fasce di età in cui è più alto il rischio di ammalarsi di questi tumori. Consentono una diagnosi precoce grazie a questa di intervenire tempestivamente con le cure necessarie. Il programma è gratuito, garantisce la qualità e la continuità del percorso di diagnosi e delle eventuali cure. Dopo l'appuntamento di domani mattina a Salerno in piazza della Concordia, il track dell'asla della campagna di screening gratuita Mi Voglio Bene farà tappa a mercoledì 6 ottobre a Cava dei Terreni in piazza Amabile, giovedì 7 ottobre a Sarno in corso Giovanni Amendola, venerdì 8 ottobre a Pagani in via Pittoni. Grazie a tutti.